... Vistese queste grandi campagne dove non vedi nessuna casa per 10, 15, 20 chilometri cosa che da noi non succede soprattutto penso che sia una cosa tipica del nord della Spagna Qual è l'età media delle persone che fanno il cammino di Santiago? davvero c'è gente di tutte quante l'età, ma la cosa sorprendente è che a volte trovi persone che sono in là con gli anni come ad esempio queste due signore che in bicicletta dalla Germania si sono avventurate in questo cammino che per loro è probabilmente un cammino di 1500 km per arrivare a Santiago de Compostela è un qualcosa che se sai gestirla, fai le fatiche che sono gestibili da te nell'arco della giornata è qualcosa che è veramente alla portata di chiunque ecco questo è un albergo, uno dei posti dove si può andare a reposare da che ora a che ora si cammina? beh se la media del cammino è di 20 km, mediamente si cammina dalle 6 della mattina fino alle prime ore del pomeriggio fai conto che una camminata abbastanza tranquilla, molto lenta è sui 4 km l'ora quindi 6 per 4, 24, ecco con 6 ore di cammino questa è la media quindi se si parte alle 6 della mattina alle 12 si dovrebbe essere arrivato mettici in mezzo che sicuramente ci sono delle pause nei vari bar che trovi in qualche paesetto lungo il cammino ecco che si fa le prime ore del pomeriggio invece chi decide di camminare con una media un pochettino più alta anche sopra 30-35 km al giorno ecco queste persone camminano oltre che la mattina camminano anche un pochettino il pomeriggio questo fa sì che durante il cammino le persone che hanno una media di 20 km al giorno rincontrano persone che hanno camminato mediamente 20 km al giorno mentre le persone che hanno un ritmo più alto lungo il cammino rincontrano le persone che hanno il loro ritmo magari si perdono di vista per un giorno o due per poi rincontrarsi magari perché uno ha rallentato e uno invece è passato più velocemente quindi ogni persona ha il suo ritmo e questo dipende anche dall'ora in cui arrivi negli alberbi che cos'è che rende unico il cammino di santiago il cammino di santiago è un grande trekking esiste un grande trekking anche che attraversa la corsica o un grande trekking ancora più lungo nelle montagne rocciose degli stati uniti il cammino di santiago è un grande trekking speciale innanzitutto per la grande catena di solidarietà che coinvolge centinaia di persone per l'organizzazione necessaria per dare ospitalità gratuita o semi gratuita hai migliaia di pellegrini che fanno il cammino di santiago il cammino di santiago oltre ad essere una passeggiata in mezzo alla natura ha qualche altra cosa di speciale la potenza della storia che c'è dietro il cammino che tu attraversi lungo il tuo cammino di santiago luoghi storici dove ci sono conventi che hanno migliaia di anni dove imperatori, dove c'è ogni paese che ti può parlare di qualcosa che è avvenuto quindi il cammino di santiago non è un trekking è paragonabile a qualsiasi altro trekking è un cammino davvero speciale ed è per questo che migliaia di persone partono da tutte le parti del mondo dalla Nuova Zelanda, dall'Australia, dal Giappone, dal Brasile dagli Stati Uniti d'America migliaia di persone partono per affrontare il cammino di santiago e spesso si tratta di un sogno covato per anni solamente quando uno ha il tempo o la possibilità o magari gli scatta alla molla solamente in quel caso il sogno diventa una realtà per tutti quelli che però affrontano il cammino di santiago quello che c'è in comune è che non è una normale passeggiata è qualcosa che ti lascia dei ricordi indelebili il cammino di santiago non è una normale passeggiata come prepararsi per il cammino di santiago ebbene forse è il caso 10-15 giorni prima del cammino fare delle lunghe passeggiate con passo veloce almeno 10-15 km al giorno per un certo periodo soprattutto se hai delle scarpe nuove ricorda di non partire mai per il cammino con delle scarpe nuove perché non è importante che una scarpa sia di marca o una scarpa costosa potrebbe costare 200 euro ma non essere la scarpa adatta a te e quindi anche se la tua scarpa è nuova e di buona qualità ricordati di camminarci prima per almeno 150-200 km prima ancora di partire per il cammino di santiago che scarpa comprare? normalmente per le scarpe da trekking si dice di comprare un numero superiore al normale quindi se porti il 40 di comprare il 41 ma nel cammino di santiago siccome il piede è sottoposto a un grande stress la dimensione del piede aumenta quando tu per più giorni di fila percori delle distanze molto lunghe quindi se porti il 40 è consigliabile comprare il 42 due numeri superiore al normale qui vicino a Leon ho incontrato un ragazzo di Valencia e per alcuni giorni abbiamo fatto del cammino insieme io però non sono riuscito poi più a tenere il suo ritmo perché lui andava molto veloce perché voleva raggiungere il padre che aveva solamente 3-4 giorni a disposizione quindi lui si doveva trovare in un determinato posto per quella data quindi ha camminato realmente molto velocemente 40-50 anche 55 chilometri in un giorno abbiamo fatto dopo di che io non ce l'ho fatta non ce l'ho fatta più comunque anche lui se era uno sportivo era molto provato in quei giorni quando l'ho salutato poi il giorno seguente ho fatto semplicemente piccoli tragitti di 15 chilometri per riprendermi dalla patria a mano che ti avvicini intorno ai 300 chilometri da Santiago cominci a vedere delle cose strane dei nidi di Cicogna che però non sono su tutti gli edifici solamente sopra gli edifici storici in particolare sopra i campanili delle chiese quello è l'unico posto dove tu incontri i nidi di Cicogna è incredibile sembra che le Cicogna vogliono riandare a fare il nido là dove l'avevano fatto in precedenza e quegli edifici sono lì da sempre questo è un cammino millenario dove le chiese sono lì davvero da sempre lungo il cammino incontri dei cartelli che ti indicano la distanza rimanente a Santiago ed è chiaramente un conto alla roversia psicologicamente è bello vedere che la distanza diminuisce questo cartello è sponsorizzato dalla San Miguel la birra spagnola in questo caso invece è un'altra birra che sponsorizza il cartello comunque la San Miguel è la birra tipica del nord della Spagna ed è quella più richiesta dai viaggiatori lungo il cammino monumenti al pellegrino di tutti quanti tipi questo bellissimo fatto sicuramente da un contadino con semplicemente del ferro saldato lì sul posto ecco in questo caso il mio amico si arrampica su una piattaforma per vedere quanto è lontano il paese per vedere se è il caso di andare avanti perché eravamo davvero stanchi prima di trovare un rifugio per rimanere a dormire la sera il menù del pellegrino è un menù a prezzo speciale riservato ai pellegrini che si può trovare direttamente nel convento nell'albergo dove vai a dormire o nelle ristoranti intorno convenzionato di solito costa 7-8 euro quando fai il cammino francese per andare verso Santiago de Compostela quando ho incontrato gli ultimi 100 km gente proveniente invece dal cammino portochese che quindi erano partite da Lisbona per arrivare a Santiago de Compostela mi hanno detto che lì in Portogallo addirittura i prezzi erano ancora più bassi un menù del pellegrino si aggirava intorno ai 5 euro con un menù del pellegrino di solito è compreso un primo, un secondo, un contorno e del vino, acqua e vino quindi un passo davvero completo di ristoro per il pellegrino quando vediamo un monumento al pellegrino c'è sempre qualcuno che cammina con il suo bastone ecco nel ritratto del pellegrino ritorna sempre il bastone anche oggi si usa il bastone il moderno bastone del pellegrino sono le bacchette da trekking che sono normalmente in metallo leggermente ammortizzate che aiutano realmente a camminare sono dimostrato che una bacchetta aiuta per un 5% e due bacchette invece aiutano per il 30% cioè lo sforzo è diluito anche nella parte superiore del corpo se tu ti abitui a camminare grazie a tutti